Ciao a tutti, sono Federica e in questo canale porto il format Sogni in Cucina, portando ricette facili, divertente e adatte ai bambini. In questa prima puntata faremo un dolce fresco, veloce e che piace molto ai bambini, una cheesecake al limone. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 2 limoni, 500 g di formaggio spalmabile, 60 g di burro, 8 g di gelatina, 400 g di latte condensato, 140 g di biscotti sbriciolati. Per prima cosa sciogliamo il burro e lo aggiungiamo ai biscotti sbriciolati e mescoliamo. Vettiamo il composto nello stampo e li velliamo con un cucchiaio e lasciamo riposare in frigo per mezz'ora. Spreniamo 2 limoni e grattugiamo nella buccia. Mettiamo a bagno la gelatina in acqua fredda. In un pentolino scaldiamo il succo di limone e aggiungiamo la gelatina strizzandola. In una panetaria mettiamo a lavorare il formaggio spalmabile e il latte condensato per qualche secondo e poi aggiungiamo il succo di limone con la gelatina e la scorza di limone grattugiato. Lasciamo lavorare per qualche minuto e versiamo il tutto nello stampo. Lasciamo riposare in frigo per altre due ore. In un pentolino mettiamo 80 g di zucchero, 2 cucchiai di amido di mais, la scorza di un limone grattugiato e il succo con 200 ml d'acqua. Mescoliamo continuamente e portiamo a bollore. Quando si sarà addensato lasciamo raffreddare un attimo e la spalmiamo nella cheesecake. Poi la mettiamo in frigo per un'altra ora. E questo è il risultato della cheesecake decorata. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina.